Ancora fermi di Scafista, Pozzalo da parte alla Polizia di Stato e ancora una volta grazie ad un video sul telefonino di un passeggero dove si distinguono nitidamente i quattro tutti i marocchini occuparsi del gommone. Si tratta di Youssef Asla di 37 anni, Aymad Kedada di 31, Abdulali Aldavi di 25 anni e Aymad Abidou di 24. Ad avvistare il gommone in mare aperto era stato un aeroplano Star 1 decollato all'aeroporto di Malta col pilota che ha informato la nave dell'ONG Fenex. La stessa si è quindi portata sul posto indicato avviando immediatamente le procedure per il salvataggio dei 112 passeggeri, operazione che avevano termine nell'arco di circa 3 ore. I migranti sono stati successivamente trasbordati sulla nave Aquarius, condotti quindi presso l'ottosposo di Pozzalo dove sono arrivati intorno al 17.30. Con questi arrivi quest'anno hanno fatto già ingresso nel centro di accoglienza circa 9.800 migranti a fronte di 28 approdi.